Nel 2018 EcoTire ha superato l'obiettivo del 100% previsto dalla legge, gestendo un quantitativo di pneumatici fuori uso pari al 102,5% rispetto agli pneumatici nuovi immessi sul mercato dai propri soci. EcoTire si posiziona come uno dei protagonisti della Green Economy italiana, riconfermandosi il primo consorzio a livello nazionale per numero di soci e secondo per quantitativi di PFU gestiti. Nel 2018 la raccolta totale è stata pari a 44.249.414 kg e complessivamente in otto anni le attività di raccolta di EcoTire hanno consentito di avviare al corretto recupero 320.520.948 kg di pneumatici. Nei primi sei mesi del 2019 si registra un ulteriore aumento del numero dei soci, ad oggi sono complessivamente 762. La rete logistica è composta da oltre 110 operatori e 21 punti EcoTire regionali che effettuano ogni giorno lavorativo circa un centinaio di operazioni di ritiro per un totale anno di oltre 20.000 interventi. EcoTire ha scelto di servire tutti i punti di raccolta e privilegiare i piccoli e medi gommisti, nonostante il costo per tiro di PFU sia molto più alto poiché un camion deve comunque viaggiare anche se non riempi il cassone di carico. Inoltre ha messo a punto un processo particolarmente innovativo con il coinvolgimento di importanti partner tecnici italiani ed internazionali che consente di utilizzare la gomma triturata derivante dalle gomme giunte a fine vita per generare una mescola utilizzabile per la produzione di altri pneumatici equivalente a quella tradizionale. Gli pneumatici verdi contenenti per il 20% gomma riciclata e devulcanizzata sono stati sottoposti per un anno ad un test comparativo mirato a valutare le differenze esistenti tra le due tipologie di copertone, quelli tradizionali e quelli contenenti gomma riciclata. I nuovi pneumatici verdi hanno subito un grado di usura praticamente identico a quello dei copertoni prodotti tradizionalmente. Alla luce di questi ottimi risultati EcoTire ha deciso di lanciare il progetto da gomma gomma 2.0 che punta ad ampliare l'iniziativa ad altre tipologie dei pneumatici ed equipaggiare almeno mille veicoli entro i prossimi 36 mesi.